Io sono Mariella, sono di Torino, sono un avvocato e sono iscritta all'ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Io lavoro in un'associazione che fa assistenza antirazzista, che fa assistenza legale agli immigrati e a richiedenti asilo. Sono venuta qua oggi, sia perché oggi come giornata è quella che più mi interessa come mio campo normalmente di azione, e sia per vedere se come avvocato posso essere utile in situazioni di tensione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.